Giovedì 30 marzo, buongiorno, bentrovati e una buona giornata da chi vi parla e da Gianfrancesco Iacaruso in regia. Si è aperto al Ministero delle Imprese del Made in Italy il tavolo sulla vertenza Vibac, un vertice interlocutorio ma importante. Governo, Regione, Comune di Termoli e COSIB aspettano in un prossimo incontro di conoscere un piano di riorganizzazione aziendale da parte della proprietà della fabbrica di Termoli. Solo così si potrà trovare una soluzione. Il servizio è di Andrea Nasillo, vediamo. Si è aperto il tavolo ministeriale sulla vertenza Vibac. A Roma, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, l'incontro con il sottosegretario Fausta Bergamotto. C'erano il sindaco di Termoli Francesco Roberti, l'assessore regionale Quintino Pallante, il senatore Costanzo della Porta, il presidente del COSIB Roberto Di Pardo, collegato online management della Vibac, l'azienda che ha annunciato 126 licenziamenti su 142 dipendenti della fabbrica di Termoli. Procedure confermate ma con la disponibilità da parte della proprietà di cambiare le prospettive con l'intervento del Governo, anche attraverso l'accesso a nuove misure come quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E ora, proprio dalla dirigenza dell'azienda, già nel prossimo incontro ci si aspetta la presentazione di un piano di riorganizzazione su cui discutere, concentrare le forze di tutte le parti istituzionali chiamate in causa. Sotto la lente a quel punto finirebbe il reperimento di risorse determinanti. Gli strumenti ci sarebbero. Un passo in avanti c'è la volontà di affrontare questa avvertenza per il bene di centinaia di lavoratori e di famiglie. Ora è fondamentale che l'azienda presenti questo piano, ha detto il sindaco Francesco Roberti. Un incontro interlocutorio, ha detto il senatore della Porta, ma è importante. Al prossimo tavolo regionale l'azienda dovrà venire con una proposta seria che possa essere condivisa da tutti gli interlocutori per arrivare a una soluzione. Ci auguriamo, ha concluso il senatore, che ciò avvenga in poco tempo. Parliamo di sanità fumata nera all'azienda sanitaria regionale per il centro diurno per malati di Alzheimer di Isernia. Palazzo De Bagis infatti non possiede la certificazione sismica e non potrà ospitare la sede. La decisione dell'azienda sanitaria, presa poche ore prima del terremoto della scorsa notte, desta ancora più amarezza. I dettagli nel servizio di Valeria Migliore. Palazzo De Bagis non ha la certificazione sismica e non potrà ospitare il centro diurno per malati di Alzheimer della provincia di Isernia. Martedì pomeriggio infatti, poche ore prima del terremoto che ha svegliato il Molise nel cuore della notte, per ironia della sorte l'azrem aveva già negato l'autorizzazione. Nel corso dell'incontro avvenuto tra il sindaco Piero Castrataro, l'associazione Non ti scorda di me e la dirigente dell'ASRE, Mevelina Gollo, è emerso infatti che i locali concessi dal comune non posseggono tutti i requisiti per consentire l'accreditamento sanitario. Un intoppo tecnico che comporta inevitabilmente ritardi nell'apertura del centro, prevista per la fine di giugno. Intanto l'amministrazione comunale ha garantito di impegnarsi a risolvere il problema, destinando quanto prima al centro diurno un'altra sede idonea, nella speranza che si risolvano le criticità di Palazzo De Bagis. Anche l'ASRE si è detta disponibile ad un ulteriore sopralluogo, ovve mai il comune individuasse altri locali disponibili. La buona notizia però è che in attesa di un centro definitivo in cui avviare anche le terapie, i malati affetti da demenza e le loro famiglie, tra qualche giorno inizieranno ufficialmente le attività ludiche e terapeutiche nel caffè Alzheimer, inaugurato lunedì scorso in via Umbria. A Tufara ieri è riaperto al pubblico l'ufficio postale dopo gli interventi di ristrutturazione che consentiranno di accogliere tutti i principali servizi della pubblica amministrazione, grazie al progetto Polis, casa dei servizi digitali. Si tratta di un progetto di poste italiane che punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15 mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. Bene, con questa notizia termina la prima edizione del Tg, adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Partiamo dal giornale del Molise, qui in evidenza ancora il terremoto, Campobasso, abbiamo visto Gravina, il sindaco ha detto da verifiche sulle scuole nessuna criticità, oggi dunque si torna in classe. Si parla anche della Vibac, aperto il tavolo ministeriale Roma, nel prossimo incontro l'azienda presenterà il piano di riorganizzazione. Ancora la sanità, chiusura, rianimazione al Santimoteo, parla Toma e dice notizie false, resterà attiva H24. Qualche altra notizia, abbiamo visto che su Civita Campomarano è sisma, c'è un intervento del Presidente della Regione, chiesto un monitoraggio dedicato per verificare eventuali sovrapposizioni con l'evento franoso. C'è il terremoto in evidenza su primo piano, violenta scossa di terremoto, il Molise ripiomba nella paura. Lunga sequenza tellurica con epicentro tra Montagano e Ripa Limosani. L'evento più forte alle 23.52 di martedì con una magnitudo di 4.6. Giornata di verifica, nelle verifiche nel cratere e in tutta la provincia. In programma stamane la ripresa delle elezioni, intanto scuole chiuse solo a Sant'Elia Pianisi. Parla a uccello dell'Unimol, si è rotto un pezzo della faglia del sisma del 2002. Non si possono escludere altri fenomeni anche più intensi. Intanto danni, giù gli intonaci, lesioni diffuse in edifici storici e case vecchie. Notte di terrore, leggiamo ancora, decine di persone hanno atteso l'alba in auto o per strada. E intanto il premio San Giorgio rinviata precauzionalmente la consegna del premio all'attore Elio Germano. Le altre notizie, elezioni, greco si fa da parte, non voglio essere un problema. Il capogruppo dei 5 Stelle sfila il suo nome dalla lista dei papabili candidati presidente. Prendo atto che sono scomodo, ha detto, ma nessuno fermerà le mie battaglie. Fedeltà al Movimento e alla coalizione, purché non cada il vetto al terzo polo. Andiamo a vedere altre notizie. Siamo a centropagina sulla sanità. Liste di attesa. Il Molise continua a distinguersi per prestazioni negative. A Termoli adesso fondi per il trasporto pubblico, comune e controregione al Consiglio di Stato. Infine Castelpizzuto, la Frana, concessi a Via Berta, 1 milione e 700 mila euro. Si parla dunque della provincia. A fondopagina lo sport, Campobasso, importante accordo siglato con l'Adidas, sponsor tecnico per tre anni. A diserni adesso il direttore generale Palmigiano dice, crediamo, nel primo posto, altrimenti pronti per i play-off. Infine il basket. Oggi partono le sfide della Final 8 di Coppa Italia. Intanto, segnalo anche il punto di oggi che porta alla firma di Giovanni amicone. Serve una svolta. Il resto è noia. Restiamo sull'informazione locale. Lo facciamo con Molise Network. Si sofferma sulla questione della Vibac. Siamo a Termoli. L'incontro convocato a Roma al Ministero dell'Impresa del Made in Italy apre uno spiraglio per i 126 lavoratori, punto della Vibac, a rischio licenziamento. All'incontro hanno partecipato il senatore Costanzo della Porta e il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Il presidente del COSI, Roberto Ripardo, e l'assessore regionale Quintino Pallante, in rappresentanza della Regione. Ancora, su un telematico, ci spostiamo in particolare su futuro Molise. Scuole di Sernia più sicure al via l'installazione dei dispositivi di sanificazione all'avanguardia. Dunque dispositivi per la sanificazione delle superfici e dell'aria con raggi UVC, che sono strumenti progettati per distruggere i microorganismi presenti nelle superfici e nell'aria utilizzando la luce UVC. Potete approfondire l'articolo chiaramente sul sito web di futuro Molise. Adesso i quotidiani nazionali. Qui sono un paio gli argomenti importanti. Le condizioni di salute del Papa e poi il codice degli alpalti e il PNRR. Corriere della Sera, scontro sul PNRR e il nuovo codice per gli appalti. I timori dell'anticorruzione, intanto arrivano timori. Salvini, così tempi più rapidi. Opposizioni vanno all'attacco. Fitto intanto tratta con l'Unione Europea. Vedete questa grande foto? Ha un'infezione respiratoria. Il Papa ricoverato, vedete qui, sofferente. Dovrà restare al gemelli per alcuni giorni. Passiamo a Repubblica. Anche qui gli argomenti sulla prima riguardano le condizioni del Papa e il PNRR. In alto, malore dopo l'udienza, infezione respiratoria, problemi cardiaci, ricoverato il Papa. Europa, il caso Italia. A Bruxelles cresce la preoccupazione per le posizioni del governo sul PNRR, MES, migranti balneari e biocarburanti. Fitto chiede flessibilità sulle spese del recovery e i ministri scaricano su Draghi la responsabilità dei ritardi. Tanto condono sui reati fiscali. Forza Italia tenta di allargarlo, ma Giorgetti frena. Per le notizie che riguardano gli esteri, Zelensky invita Xi a Chievi, il presidente cinese. Macron e von der Leyen mediano sul piano cinese. Passiamo alla stampa. Ecco qui, in alto, Papa Francesco, la grande paura. Il Pontefice è accusato un dolore a petto a Santa Marta. Annullati gli impegni, ricoverato al Gemelli per una infezione respiratoria. La stampa prospetta il fantasma delle dimissioni. Poi, l'allarme dei costruttori. Il PNRR è irrealizzabile. Bufera sullo scudo fiscale. PD e 5 Stelle è un altro condono, hanno detto. Si parla anche del piano migranti, emergenza sbarchi. Accordo con la Tunisia sui pattugliamenti. Il fatto quotidiano legalizzano l'evasione e gli appalti senza gara. Modello Tangendopoli. Chi non versa non rischia più nulla. Per il 98% dei lavoratori. Anac contro il nuovo codice degli appalti. Leo di Fratelli d'Italia infila nel decreto. Aiuti la sanatoria penale per chi non paga contributi e IVA. Chiudiamo anche il fatto quotidiano. Passiamo al manifesto. Appalti frontali. Anche qui si parla del codice degli appalti. Con il codice Salvini scrive il manifesto. Gli appalti fino a 150 mila euro potrebbero andare a un cugino o in cambio del voto. Avverte dunque il presidente dell'Anac. Sindacati sul piede di guerra per i subappalti a cascata. Per la Will messa a rischio la sicurezza sul lavoro. Il primo aprile i sindacati scenderanno in piazza. In basso Zelensky. Voglio parlare con Xi. Ieri anche la chiamata del presidente ucraino con Giorgia Meloni su iniziative bilaterali. Questo è quanto leggiamo sul manifesto. Il tempo che ha una lettura diversa rispetto a diversi altri quotidiani sulla questione del codice degli appalti. Così sblocchiamo gli appalti. Il ministro illustra il suo codice. Garantisce tempi più rapidi per realizzare opere pubbliche. In vigore da luglio farà risparmiare in media un anno su tutti i bandi. Più fiducia a sindaci e imprese. Maggiori certezze per lavoratori e funzionari, scrive il quotidiano della Capitale. Passiamo al sole 24 ore. Se anche qui si parla del PNRR, ma lo troviamo a centro pagina. Ecco tutti gli ostacoli che frenano il piano nazionale di ripresa e resilienza. Spese lente, bandi in ritardo, personale, prezzi e liquidità pesano sul decollo del piano. Fitto da Bruxelles, ministro Fitto da Bruxelles, lavoriamo d'intesa con l'Unione Europea, ma ci sono diversi progetti a rischio. Chiudiamo anche il sole 24 ore. Siamo ora su avvenire. In alto, forza Francesco, il Papa al Gemelli. Malore dopo l'udienza. I controlli riscontrano una infezione respiratoria, ma escluso un contagio Covid. Previsti alcuni giorni di ricovero per le terapie. Poi, a centro pagina, un piano per salvare tutti i soldi del PNRR. I dubbi di sindaci e imprese sul nuovo codice degli appalti. Rischi di corruzione nelle assegnazioni. Il governo intanto tratta con l'Unione Europea per spostare i finanziamenti sui fondi a scadenza 2029. La verità? Si sofferma ancora sulla questione del Covid e dei vaccini. Le vittime dei vaccini mandati al macello denunciamo l'AIFA. Le mail provano che all'agenzia sapevano dei rischi. E poi leggiamo ancora. Ho visto fuori dal coro la trasmissione e ho pianto dalla rabbia. Ero fragile, non mi hanno tutelato e ora sto malissimo. Mio figlio è rovinato, ci incateneremo a Roma. Spero che altri si uniscano a noi. Mi hanno rubato la salute. Insomma, queste sono alcune delle mail pubblicate da Verità. C'è questa grande foto. La vedete? Lei ha ucciso tre bambini. Arriva dagli Stati Uniti. Ma per il Corriere e company il problema è negare la realtà e dire che è un lui. Chiudiamo la verità. Andiamo adesso a vedere... Torniamo sull'informazione locale. Lo facciamo con il centro quotidiano dell'Abruzzo. Centro storico. L'Arta assolve i locali. Siamo a Pescara. I risultati dei controlli. Rumori causati dalla gente all'esterno, ma non dalla musica. Si parla anche di migranti. Il piano dell'accoglienza oltre la metà resta in Abruzzo. Sono quelli sbarcati in 161 a Ortona. Più in basso il poliambulatorio nascerà nel parco. Il Consiglio Comunale approva il progetto della ASL. Esplode l'ira della opposizione. Chiudiamo la pagina principale del centro per andare a vedere quelle locali, in particolare quella dell'area di Teramo. Prati di Tivo, impianti sequestrati. Il giudice nomina il gestore Finori come custode. Impossibile per ora la vendita. C'è anche quest'altra notizia. Via con una foto. Via libera al ponte ciclopedonale tra Abruzzo e Marche. Più in basso, Bancarotta, Menozzi e De Rosa. Tutti assolti. Cadono le accuse per i tre titolari dell'azienda di Atri. Per il liquidatore e un tecnico. Ora vediamo anche l'area dell'Aquila. Avezzano e Sulmona. Apertura, sentenza shock. Ora parte l'appello. Il 30 aprile, prima udienza sul concorso di colpa alle vittime del sisma. Poi ancora la ferrovia per Roma. Il tratto massicano resta senza fondi. La decisione riguarda la linea tra Avezzano e Tagliacozzo. Più in basso, cade dal balcone. Grave una dodicenne. Siamo a Luco dei Marsi. È precipitata dal secondo piano. Trasferita al Bambin Gesù di Roma. Ancora il centro. Torniamo indietro perché abbiamo visto ancora la pagina di Pescara. Ci sono invece, c'è ancora da vedere, quella di Chieti. Lanciano è vasto. Crisi in comune, caos e dimissioni. Giunta spaccata. L'assessore della penna vuole lasciare lite tra il PD e il polo civico. Si parla anche del terremoto. Due scuole vastesi chiuse ieri per i controlli. E ancora, in questione di lavoro, Sevel, 120 in pensione, assunti in 40. A tessa, intesa tra FC Italy e sindacati, precari stabilizzati, incentivi a chi può andare via. E in basso, l'Università di Chieti, l'Ateneo apre ai futuri studenti Open Day per far conoscere il campus alle possibili matricole. Il messaggero, nell'edizione Abruzzo, eccolo qui, Luco, un dramma senza perché. È grave la bambina di 12 anni volata dal balcone. Era stata chiusa in camera per punizione. I vicini hanno detto c'erano tensioni tra i genitori. Il sindaco ha incontrato la madre e ha detto si sono parlate. A centro pagina, poi, vogliamo una commissione per indagare su tutte le stragi. Oggi si parla di Rigopiano, i parenti delle vittime, oggi dalla Meloni. E ancora, di taglio centrale, crateri nelle strade a Pescara, un piano da 3 milioni di euro, fondi aggiuntivi per sistemare gli asfalti, la rete viaria interna in condizioni estreme. Bene, con il messaggero d'Abruzzo termina il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo alle 14 la seconda edizione del TG. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.